Un significativo sequestro di cocaina a bordo di una barca vela nelle Azzorre. L'operazione coordinata dalla polizia doganale francese e inglese ha permesso di recuperare un quantitativo pari a 1,15 tonnellate di droga nella notte tra il 27 e il 28 maggio. Si tratta del quarto ingente sequestro di cocaina dall'inizio dell'anno, a colpire questa volta un gruppo criminale serbo.